Ci aspettavamo una partita dura e in effetti dai primi secondi il Galles ha messo subito le cose in chiaro, al primo tempo abbiamo subito molto, siamo state brave ad approfittare della superiorità numerica e a segnare quei punti che fino all'ultimo sembravano, e sono, stati decisivi perché la partita si è risolta negli ultimi minuti, le ragazze oggi penso abbiano tirato fuori tutta l'energia e tutto quello che magari in alcune partite è mancato, oggi è venuto fuori e siamo riusciti a portare a casa questo risultato. Allora, 6 nazioni in salita, una prima buona prestazione, poi due prestazioni al di sotto delle nostre potenzialità, finito increscendo, sicuramente questi due risultati buoni ci lasciano delle buone prospettive, sensazioni e tutto, e sicuramente anche tanti dati su cui lavorare in vista del mondiale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.